Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi con questa telecamera di sorveglianza da esterni torneremo a parlare insieme di sicurezza domestica e lo faremo con un modello molto economico di Ambux che almeno sulla carta possiede tutte le funzionalità più importanti di cui deve essere dotata una telecamera da esterni alimentata a corrente elettrica. Prima di continuare però come al solito se volete vedere altri contenuti di questo tipo potete farmelo sapere iscrivendovi al canale commentando condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e poi vi invito anche ad unirvi al gruppo telegram del canale così da rimanere aggiornati sulle novità future. Detto questo iniziamo con le specifiche di questa nuova telecamera di sorveglianza da esterni cominciando con l'obiettivo da 3 megapixel che permette di registrare video in full hd che possono essere conservati sia sulla schedina micro sd sia sul servizio di cloud che naturalmente è a pagamento. Può inoltre ruotare di 200 gradi in orizzontale e di 90 gradi in verticale il che permette alla telecamera sia di monitorare a 360 gradi l'ambiente in cui è inserita ma anche attraverso il tracciamento intelligente di seguire gli spostamenti della persona che si trova nell'inquadratura. L'audio è bidirezionale e quindi la telecamera integra sia un altoparlante che un microfono, è resistente ai liquidi il che la rende adatta anche all'utilizzo all'aperto, si può naturalmente condividere con più persone, il collegamento può avvenire sia via wifi a 2,4 gigahertz che con il cavo e la visione notturna può essere sia ad infrarosso e quindi in bianco e nero ma anche a colori per via delle nuove luci a led che circondano l'obiettivo. Per quanto riguarda gli accessori invece nella confezione ci sono il manuale di istruzioni tradotto esclusivamente in inglese, il trasformatore in formato europeo da 12 volte 1 ampere, la componentistica per sigillare i vari collegamenti, la solita dotazione di viti e tasselli, la telecamera che ovviamente analizzeremo insieme tra qualche secondo ed infine anche una schedina micro sd da 64 gigabyte. La qualità costruttiva e l'assemblaggio sono buoni, probabilmente migliori rispetto a quelle che erano le mie aspettative, infatti la telecamera è realizzata in un materiale plastico di buona qualità e dalla base che va attaccata al muro con le viti e i tasselli fuoriescono anche i cavi di alimentazione e LAN. Poi ci sono anche due antenne che consentono un'ottima portata e stabilità della connessione wifi che arriva tranquillamente a più di 30 metri i spazi semi aperti. Nella zona della lente oltre al microfono c'è anche il sensore di luminosità che gestisce sia le 6 luci ad infrarosso per la visione notturna in bianco e nero sia i 9 farete a led per quella a colori. Ruotando leggermente l'obiettivo verso l'alto e rimuovendo questa linguetta in silicone si accede allo scomparto dove ci sono lo slot per schedine micro sd e il pulsantino per riportarla all'impostazione di fabbrica mentre come al solito l'altoparlante si trova sul retro. Per questa telecamera la prima configurazione è gestita da questa applicazione disponibile sia per android che per ios per cui dopo averla installata, concesso le varie autorizzazioni e aver creato un account dovremo impostare correttamente lo smartphone per la ricezione delle notifiche, dopodiché per aggiungerla nella schermata principale dovremo cliccare al centro del display, poi nella videata successiva dovremo scegliere la prima voce telecamera wifi, collegare la telecamera alla corrente elettrica e attendere fino a quando non sarà operativa poi dovremo concedere l'autorizzazione per accedere alla posizione dello smartphone, scegliere la rete wifi alla quale vogliamo connetterla che deve essere obbligatoriamente a 2,4 gigahertz inserendo anche la relativa password, poi far leggere alla telecamera il codice a barre che nel frattempo sarà comparso sullo smartphone e attendere qualche secondo in modo che venga correttamente rilevata, dopodiché dovremo impostare una nuova password, nella schermata successiva potremo assegnarle un nome, poi dovremo scegliere come gestire la registrazione sulla schedina micro sd che può essere continua oppure solamente in occasione di eventuali anomalie, poi potremo attivare o meno le notifiche ed infine dopo questa breve guida introduttiva è arrivato il momento di analizzare l'applicazione che naturalmente è il cuore pulsante di qualsiasi telecamera di sorveglianza perché permette di personalizzarne il funzionamento adattandolo al caso concreto che ovviamente varia da utente a utente e in questo caso come vedremo tra un attimo abbiamo un'applicazione che consente di intervenire su tantissimi parametri e funzionalità, come vedete in basso oltre alla sezione principale ce ne sono altre tre, la prima contiene le registrazioni video e le fotografie salvate nella memoria dello smartphone, la seconda invece è riservata al servizio di cloud mentre la terza contiene alcune impostazioni generali comprese quelle relative alle notifiche. Anche se naturalmente la sezione più importante è la prima dove sono elencate tutte le telecamere associate all'account e dove ci sono anche alcune scorciatoie che consentono molto velocemente di accedere alle notifiche, di condividere la telecamera, di controllare lo stato del servizio di cloud. Molto più importante invece almeno per quanto riguarda le impostazioni è la terza voce housekeeping che si occupa di gestire la rilevazione delle anomalie che possono essere limitate esclusivamente alle persone ed in corrispondenza delle quali la telecamera può scattare una fotografia, registrare un video e suonare la sirena integrata che volendo può essere sostituita anche da un messaggio sia preimpostato scegliendolo tra quelli disponibili oppure personalizzato e quindi registrato con lo smartphone. Poi sempre da questa sezione si possono anche gestire le notifiche scegliendo la tipologia, abilitandole e disabilitandole, selezionando anche l'intervallo tra la rilevazione di un'anomalia e la successiva, specificando anche il periodo che può riguardare l'intero alco della giornata oppure programmato così da escluderlo in determinati orari ed infine si può anche regolare la sensibilità delle rilevazioni che anche in questo caso può essere impostata su tre livelli alto, medio e basso. Poi tornando nuovamente alla sezione principale scegliendo l'ultima voce si accede al menu impostazioni particolari della telecamera che però noi come sempre vedremo tra qualche minuto dopo aver analizzato velocemente la vista live che permette ovviamente di guardare in diretta quanto inquadrato dalla telecamera usando anche una connessione dati come sto facendo io in questo momento il che naturalmente ne permette la visione da praticamente ovunque. Qui in alto ci sono le informazioni relative allo streaming che mostrano il flusso dati e la portata del segnale wifi mentre con le cinque icone che si trovano qui in basso si può accendere oppure spegnere il microfono integrato così da ascoltare i suoni ambientali modificare il flusso video che può essere impostato su ultra hd oppure qualità standard modificare la vista e poi con la quarta icona si può registrare manualmente un breve video che sarà salvato nella memoria dello smartphone ed infine con l'ultima voce cambiare l'orientamento della visione. Mentre la voce in seguimento automatico si occupa di gestire il tracciamento intelligente funzionalità che permette alla telecamera di seguire in modo autonomo ruotando in tutte le direzioni gli spostamenti di chi si trova nel suo raggio di azione regolando anche la sensibilità e il relativo tempo che può variare tra 3 secondi e ben 30 minuti. Mentre tornando indietro con la prossima opzione denominata cruise control si possono impostare tre punti di osservazione così che attivando questa funzionalità la telecamera si sposterà autonomamente e continuamente all'interno di questo percorso. Poi le prossime opzioni consentono di rivedere le registrazioni sia salvate sulla schedina micro sd che sul servizio di cloud, di accendere l'altoparlante integrato nella telecamera il che permette di parlare con chi si trova nel suo raggio di azione ed infine di scattare una fotografia che naturalmente sarà salvata in locale e quindi nella memoria dello smartphone. Poi con la prossima scheda si può ancora una volta accedere al servizio di cloud mentre quella successiva attiva il joystick virtuale che consente di ruotare la telecamera in tutte le direzioni con degli spostamenti che come vedete sono praticamente in tempo reale. Mentre l'ultima scheda si occupa di gestire la visione notturna che può essere a colori, ad infrarosso oppure anche una combinazione di entrambi per la quale si possono impostare sia la sensibilità che può essere regolata sulla solita scala di valori ma anche scegliere il tempo di illuminazione che può variare tra 5 e 120 secondi. Infine con il controllo intelligente si può decidere di rilevare esclusivamente le persone che attivando la seconda opzione è possibile evidenziare con un rettangolo il che in caso di falsi positivi permette di capire chi o che cosa ha fatto scattare la rilevazione ed in ultimo di selezionare anche la zona di rilevamento che può essere costituita sia da una linea che da un'area il che permette un controllo molto più avanzato così da quantomeno cercare di ridurre al minimo i falsi positivi che naturalmente saranno sempre presenti anche se in numero ridotto e comunque sia a mio modo di vedere apprezzo sempre che nel software di gestione vengano incluse queste funzionalità che per quanto ancora sperimentali danno comunque un'idea del livello di intelligenza se la vogliamo chiamare così raggiunto al giorno d'oggi da queste telecamere. Mentre per entrare nel menu impostazioni dovremo come sempre cliccare sulla rotellina dentata per cui si aprirà questo menu da dove potremo regolare i restanti parametri della telecamera per cui scegliendo le impostazioni di base si possono gestire i suoni di sistema la rotazione dell'immagine sia in orizzontale che in verticale il che diventa utile per installazioni particolari come ad esempio a soffitto si può anche modificare la lingua dei feedback del dispositivo scegliendone una tra quelle disponibili che però purtroppo ad oggi non comprendono ancora l'italiano si può regolare la velocità della rotazione impostandola su tre livelli si può anche modificare la risposta al movimento dei joystick virtuali ed infine con le ultime due voci si possono regolare l'immagine e il volume dell'altoparlante. Poi tornando indietro con le restanti opzioni si possono gestire la password della telecamera e le rilevazioni delle anomalie che abbiamo già visto qualche secondo fa e ancora proseguendo si può controllare lo stato della schedina micro sd attivando anche la registrazione in loop che a memoria piena cancella automaticamente le registrazioni più datate sostituendole con quelle nuove. Poi con la prossima voce si può attivare la registrazione scegliendo anche la durata dei video e decidendo se abbinare o meno l'audio regolando anche la qualità delle immagini che naturalmente influirà sulle dimensioni delle clip. La prossima voce invece chiamata impostazioni avanzate permette di attivare il tracciamento intelligente e di scegliere il codec con cui vengono compresse le registrazioni. Mentre con le restanti quattro opzioni si possono verificare le impostazioni di rete, spegnere temporaneamente la telecamera così da salvaguardare la privacy, accedere nuovamente al servizio di cloud ed infine ottenere delle informazioni sul firmware e alcune altre cosette che naturalmente per questione di privacy non vi posso mostrare. E questo direi che è tutto per quanto riguarda l'applicazione per cui ora non ci resta come al solito di vedere alcuni test sul campo. E allora brevi test al video di uso per questa nuova telecamera. telecamera di sorveglianza da esterni, cominciando come sempre da due metri di distanza dalla telecamera che sopra la nuova a due metri di altezza dal suolo, fino ad arrivare a più o meno 15 metri nel punto più lontano. 5 metri più o meno 7 metri 10 metri e allora secondo il test di urno, questa volta per valutare come lavora il tracciamento intelligente del movimento. e allora e allora e allora e allora e allora come avete visto il tracciamento intelligente del movimento controlla piuttosto bene, infatti la telecamera è riuscita più o meno in tempo reale a linee spostamenti. e allora e allora primo test audio video notturno con la visione ad infrarosso e quindi con le immagini in bianco e nero. e allora 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 il secondo test notturno e allora 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 e il test livello e poi e allora e poi e allora e allora e allora nuova telecamera di sorveglianza da esterni che come tra altri modelli anche in questo caso è posizionato sul retro. E allora come sempre dopo i test sul campo non mi resta che raccontarvi qual è stata la mia esperienza di utilizzo cominciando dalle notifiche che come avete visto arrivano velocemente, la rilevazione del movimento è accurata il che implica anche un buon funzionamento del tracciamento intelligente, la visione notturna è buona in entrambi i modi ad infrarosso e a colori, la qualità delle immagini è nella media e la vista live è praticamente istantanea. Ovviamente però questo non significa che sia perfetta anche perché per quanto ormai anche queste soluzioni così economiche siano completamente plug and play inevitabilmente ci sarà sempre una certa quantità di falsi positivi che naturalmente possono essere ridotti a patto però anche in questo campo come del resto in quasi tutti gli altri aspetti della nostra vita di investire un po' di tempo per studiare e capire l'impatto delle varie regolazioni così da adattarle al meglio all'ambiente nel quale la telecamera è inserita che non mi stancherò mai di dire varia in modo anche importante da utente a utente. Detto questo come al solito se siete interessati per maggiori informazioni trovate tutto quanto qui sotto in descrizione dove vi ricordo ancora ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni